e ci siamo una nuova puntata insieme rieccoci tornati mercoledì per chi ci segue in diretta ormai sapete doppio appuntamento abbiamo fatto l'editoriale ore 18 sul canale Gianluca Lamberti magari al termine di questa puntata potete andarlo a riprendere e mi fa un sacco piacere avere di nuovo insieme a noi Davide Ramondo bentornato ciao ciao Gianluca ciao a tutti buona serata vedo anche molti nuovi amici in chat fedelissimi veterani abbonati grazie di cuore tutti i nomini scritti in verde grazie di cuore anche a chi ha preso l'abitudine di regalare ai fedelissimi degli abbonamenti modo da vedere sempre più nomi in verde che cosa possono fare gli abbonati mettere delle moti con dei disegnini particolari diciamo così personalizzati per i nostri abbonati per il resto tutti vedono tutti vedono tutto la conoscenza è illimitata e gratuita per chiunque la chieda quindi non ci sono disparità di trattamento semplicemente chi può sia buona e contribuisce anche per chi non può. Detto ciò direi che il Buon Mesbet è pronto anche in regia oggi parleremo di un argomento che lascerei introdurre a te da. Allora ti ringrazio questo è un tema abbastanza delicato che stavo preparando da almeno un anno e che propongo qui in occasione poi della pubblicazione del mio ultimo libro il Terzo Testamento che ovviamente è una specie di upgrade dell'Antico e del Nuovo Testamento non fatta dal sottoscritto ovviamente non sono un evangelista come il buon Mario Draghi ma è piuttosto insomma il Vangelo che hanno scritto per noi. Tutti quanti lo conosciamo ed è l'Agenda 2030 però dietro quel nome Agenda c'è in realtà un veramente l'evoluzione di un di un nuovo testamento nel senso che parliamo di una vera e propria religione un nuovo culto che ovviamente si iscrive a quelli precedenti e nella fattispecie le religioni abramitiche di cui il cristianesimo, l'islam e l'esraismo e l'ebraismo sono espressione però con una bella verniciatura di green e quindi di ecologia. Però prima di parlare del triste presente vorrei andare a fare un salto nel passato perché così certe cose possono essere più chiare nel senso che nel momento in cui la storia si ripete andiamo a vedere quando già è accaduto questa convergenza mettiamola così oscura. Poi attenzione non tutte la storia non è che porta sempre male tragedia no? Ci sono delle persone o chiamiamole così insomma delle brutte persone ecco che hanno dei piani hanno delle agende hanno dei protocolli che li applicano però poi dopo ci sono sempre delle 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 risposte no? davide posso darti il consiglio evidentemente hai il microfonino che leggermente struscia meglio così da casa non sentono lo non tolgo il microfono eh proviamo ok lo tengo così lo tengo così perfetto e niente dicevo quindi andrei a fare un salto duemila anni fa proprio perché duemila anni fa è successo un qualcosa di molto molto simile con proprio il il cristianesimo ora le radici del cristianesimo non sono non sono proprio diciamo positive tutti quanti pensano che il cristianesimo sia semplicemente un upgrade del dell'ebraismo ma non è proprio così perché il cristianesimo si è fatto in realtà ricettacolo quindi se è stato un serbatoio che ha contenuto all'interno altri culti ovviamente quelli che vengono annoverati insomma nel nel paganesimo per uno scopo cioè quello di essere oggi diremmo inclusivo all'epoca invece quando almeno il glossario era quello dei greci e dei latini no avremmo detto universale no cioè nel senso il il cristianesimo doveva avere un marketing molto più figo di quello dell'ebraismo che invece era soltanto del popolo eletto no e quindi perché l'impero romano nel momento in cui è andato a conquistare culture civiltà popoli tra loro eterogenei aveva bisogno di qualcosa che fungesse da collante e la filosofia nella fattispecie o quella stoica o quella epicurea erano quelle più o meno insomma le due correnti duemila anni fa roma no pensiamo a senica che è stato il grande diciamo uno dei più grandi filosofi della dell'antichità del primo secolo dopo cristo e lui si andava a inserire per esempio nel nello stoicismo no non era abbastanza non era gli mancava quello quella trascendenza quel quel pizzico di trascendenza che anelasse al divino e che in realtà permetteva appunto di contemplare di abbracciare al proprio interno insomma diversi 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 popoli quindi insomma il cristianesimo doveva essere un po' paraculo fondamentalmente adesso lo dico proprio per essere compreso senza 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 silogismi e parole che inutili di cui non abbiamo bisogno perché abbiamo bisogno veramente di capire che cosa è veramente successo no quindi insomma il cristianesimo doveva essere inclusivo tra questi tra questi culti ovviamente c'era un culto che era quello egizio che ha rivestito un ruolo molto importante in quanto Gesù quindi il soggetto portante di questa nuova religione era intriso della della cultura e della magia se vogliamo nel senso buono del termine no egizia anche perché molto probabilmente veniva proprio dall'egitto visto che maria quindi la madre miriam era ricordiamolo un nome egizio egiziano scusate e diciamo che molto probabilmente può essere diciamo che ci sono delle ricerche che vogliono identificare questa maria come la terza moglie di re erode quindi mariamne e che veniva proprio veniva proprio appunto dall'egitto no quindi addirittura imparentata con con i tolomei e quindi parliamo della famiglia di cleopatra ecco ora ma senza andare anche senza entrare nel merito di queste di queste ricerche perché purtroppo sono tantissimi temi e non abbiamo tutto questo tempo no pensate semplicemente al fatto che episodio che tutti quanti riconoscono quando insomma dopo la crocifissione pensate al fatto che il corpo di gesù era avvolto nelle bende quindi quando non trovano niente quindi nel corpo non c'era più c'erano le bende no ecco le bende perché le bende questo è uno dei piccoli particolari che magari nessuno si è mai soffermato no proprio perché era una pratica egizia pensiamo anche a quando gesù ha fatto per esempio degli esorcismi no il lui molto probabilmente apparteneva al non voglio dire la parola setta perché la declinerebbe di un qualche cosa di negativo ma al clan diciamo dei terapeuti che venivano proprio dall'egitto e che erano diciamo imparentati nel senso con gli esseni quindi le pratiche erano le stesse avevano moltissime cose in comune o pensiamo anche al culto di iside della quindi della visite quindi del figlio orus no attraverso il cristianesimo viene riproposto questo binomio questa dialettica con maria e appunto gesù pensiamo al tema della risurrezione quindi dell'anima questo non era un ritaggio che veniva da quello ebraico no che non ha mai accennato a questo almeno per quello che riguarda le scritture quindi non entro nel merito di della cabala e di tutto quello che è stato costruito dopo non c'è nessun accenno alla trascendenza no se quindi non c'è niente di tutto ciò pensiamo anche per esempio al giudizio ultraterreno no dove l'anima del defunto viene viene pesata no queste sono tutte cose che non appartengono al ritaggio ebraico ma appartengono alla cultura appunto egizia di cui gesù molto probabilmente era espressione sia perché veniva da lì sia perché ha studiato lì in ogni caso no vi era un altro tempio oltre a quello di gerusalemme che era assai punto importante ed era quello di alessandria e quindi molto probabilmente il buon gesù chiunque gli fosse forse proprio questo yoshua ben gamala che è stato poi addirittura sommo sacerdote del tempio di gerusalemme nel 63 dopo cristo no ecco ha studiato appunto ha studiato appunto in in egitto questo tra l'altro ci viene anche suggerito implicitamente nel momento in cui maria scappa per via della insomma visto che rischiava la pelle insomma dal buon erode dov'è che va va in egitto quindi è probabile lecito quantomeno supporre che lì avesse avesse casa no quindi perché scappare direttamente là inoltre aggiungo insomma quasi tutti i profeti e patriarchi che va un casino come parola venivano dall'egitto quindi sarebbe proprio anche una bella beffa no per per gli ebrei trovarsi è vero che loro non l'hanno riconosciuto come messia e come cristo no però diciamo anche gesù forse non faceva eccezione no in quanto a nazionalità e detto ciò però ma perché perché adesso interessa questo argomento l'ho già detto che quindi il cristianesimo serviva ai romani anche se in realtà parliamo del deep state del deep state romano cioè di chi di chi vi era dietro i romani no perché i romani facevano un po il gioco che fanno oggi americani ovviamente un po più bello diamola così visto che non hanno anche portato istituzioni strade e non hanno soffocato le tutte le culture insomma che che hanno conquistato insomma no chiaramente la storia poi va verso una degenerazione no proprio come il dna no è come la biologia però ecco diciamo che i romani servivano facevano da garante dell'ordine politico il problema è che la politica non basta se stessa per per governare i popoli e la religione invece assolve questo compito benissimo la religione intesa come ideologia no ecco il cristianesimo doveva avere due due particolarità per poter soggiogare appunto la gente noi oggi lo sappiamo benissimo proprio che l'abbiamo sperimentato sulla nostra pelle no cioè doveva in sostanza legarti incatenarti anzi forse il verbo giusto al passato e nel contempo farti aspirare a un futuro indefinito indeterminato darti una speranza di una di un futuro migliore sostanzialmente no come farlo beh la prima parte cioè incatenarti al passato come con il concetto di peccato originale no noi pensiamo pensiamo oggi con il con la polemica che è saltata fuori no con l'ennesimo tema no adesso il problema è il patriarcato no e il senso di colpa perché tutte le dittature i regimi si formano fondamentalmente su il dovere e il senso di colpa senso di colpa per qualche cosa che tu in teoria dovresti aver fatto no o che potresti anche fare e poi dopo il dovere il dovere di che cosa cioè di seguire determinati dettami per un eventuale premio quindi passate futuro così sono incastrati e bene il quindi questo era era fondamentalmente il duplice scopo che serviva il il cristianesimo ma entriamo adesso nel nel cuore nel cuore della della questione come si è arrivati a creare appunto quella questa religione che a quel tempo era insomma l'agenda globalista del primo secolo dopo cristo no quindi era l'equivalente diciamo della dell'agenda 2000 dell'agenda 2030 di oggi cambiando ovviamente i soggetti i nomi ma la sostanza era esattamente lo stessa la stessa cosa insomma gli stessi fini stessa probabilmente forse anche stessi attori e ebbene per poter per poter però cioè considerate che il cristianesimo è stato veramente un serbatoio multiculturale quindi che doveva essere inclusivo e che doveva essere epurato del come possiamo dire cioè insomma non doveva far guardare alle persone chi erano questi chi 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 dirigeva le fila nel discorso no e per assurdo proprio gesù fu uno di quelli che si scagliò contro questi contro questo deep state che non era neanche tanto o in ombra no che erano i banchieri amici miei erano i banchieri erano gli stessi stronzi di oggi perché considerate che il tempio di gerusalemme era l'equivalente della banca centrale europea faccio l'esempio nel contesto degli americani della della federal reserve no quindi non solo perché era un deposito in cui venivano stipati diciamo ricchezze oro argento no ma perché lì è lì che avveniva è lì che il popolo veniva reso schiavo no attraverso come attraverso che mezzo l'usura perché il problema non sono le banche gesù stesso non si è mai scagliato contro il concetto di denaro o contro le contro appunto le banche all'epoca esiste il tempio era una banca no anche il tempio degli ebrei non ha niente a che vedere con l'ecclesias con la chiesa e tutto quello che è venuto dopo anche se poi dopo diciamo che poi la chiesa si è ridotta alla banca del vaticano quindi vedete che anche insomma l'illusione lì è durata anche abbastanza poco no quindi questo episodio l'episodio del conflitto quindi tra gesù stesso e non quindi diciamo gli equivalenti dei dei bancari e cioè quindi semplici impiegati i banchieri di oggi no anche perché c'erano diversi sacerdoti e poi c'era anche il sommo sacerdote quindi non c'era soltanto un sacerdote di Gerusalemme c'erano diversi sacerdoti di cui poi c'era il sommo sacerdote che era colui che poteva accedere al santa santorum no il problema invece era l'usura perché tutte anche la moneta romana doveva essere per forza cambiata nel nel ciclo del conio del conio ebraico tra queste monete c'era per esempio un'altra che era molto importante che era la la moneta emessa a pneumatico no quindi uno dei paesi della dell'odierna siria no tant'è vero che nel discorso sulla montagna bellissimo di gesù lui disse cominciò proprio diretto no beati i poveri non in spirito ma di pneumatico ok perché se se veramente fosse beati i poveri in spirito allora l'antipapa bergoglio sarebbe il primo numero uno no visto che per parafrasare franco battiato appunto il buon papa francesco era assai poco spirituale no quindi l'ha detto il maestro e io non posso che appoggiargliela quindi e quindi quindi lasciando perdere quindi questa questa piccola breve battuta no eh beati i poveri quindi di pneumatico cioè coloro che sostanzialmente non pensavano soltanto ad arricchirsi no quindi il problema era appunto il concetto di usura ecco questo episodio questo episodio in genere nei vangeli viene messo all'inizio della diciamo della 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 sua missione della sua missione in realtà molto probabilmente è collocabile proprio alla all'epilogo della sua vita no molto verosimilmente nel 68 dopo cristo si appunto corrisponde a joshua ben gamla ossia un anno e mezzo prima della distruzione del tempio di gerusalemme perché lì tentò un colpo di stato quindi questo colpo di stato fallì politicamente e però comunque fu abbastanza eclatante da scuotere comunque diciamo il popolo che già comunque era era diviso il detto ciò andiamo a vedere chi chi era questo dio chi era questo il questo il soggetto no che veniva adorato no ecco questo questo soggetto altri non era che moloch nel senso che anzitutto moloch non è un dio antagonista di javè su questo mauro bino ha fatto una lezione molto molto eloquente molto interessante nel senso che spiega come proprio moloch in realtà sia non un soggetto ma sia un eh ben anzitutto deriva da un verbo che malic ma è appunto eh si riferisce al sacrificio all'olocausto sostanzialmente no quindi eh un olocausto quindi non parliamo necessariamente di quello del novecento no quindi come esattamente come i teoi i elohim eccetera bisognava sacrificare qualcuno questo poteva essere da un animale anche ai figli no lo stesso giavenia non era estraneo questa questa filosofia malata e e infatti lo ritroviamo perfettamente lo ritroviamo perfettamente nelle nelle monete nelle monete dell'epoca ora questo qui quindi questo cosiddetto dio dei banchieri è lo stesso di oggi il se pensiamo che moloch appunto adesso eh Gianluca ti faccio vedere delle 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 immagini non so se 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 ok se ne stiamo vedendo ok perfetto ok quindi questo l'effigie di moloch era ovviamente un toro a cui venivano sacrificati in questo caso purtroppo i neonati insomma gli infanti e non non entro nel merito no però insomma parliamo del della stessa della stessa effigie che troviamo oggi visto che ho fatto prima il parallelismo con la banca centrale europea no qua è se tu se se piegate le banconote eccetera viene fuori queste effigie ma anche considerando compluttismo questa roba qui andiamoci a vedere la moneta da due euro no visto che siamo in europa questo è il ratto di europa ok da parte di zeus nonché l'equivalente appunto di ellil che non a caso ellil era raffigurato da un toro no con appunto in sella europa considerate che infatti la grecia cioè scusate l'unione europea si è stata costruita proprio sullo stupro della grecia manco a dirlo no che poi il mito diventa diventa sostanza storica quindi sostanza per per dirla nel modo più elegante possibile noi oggi siamo schiavi dello stesso dio ok di duemila anni fa ecco per ritornare poi anche adesso interrompere se vuoi per ritornare al nostro tema vi ricordate il concetto di peccato originale no cioè che praticamente gli uomini appena nascevano già dovevano avere il senso di colpa di questo peccato originale no ma per quale motivo è stato inventato il concetto di peccato originale perché gli uomini psicologicamente dovevano prepararsi al concetto di debito di debito quindi sotto sotto la veste fra l'altro si apro una parentesi e vado non disponda di più avete visto come bill gates stia in ogni modo cercando di profettizzare capitemi un nuovo duemila e venti ma per gli specifico per infanti e qualcuno dice che dalla cina qualcuno al mainstream comincia a dire arrivato arrivato eccetera eccetera di questa cosa non ne parleremo perché ultra mega censuratissimo penso e spero che non gli andrà buon fine come tutto ciò che d'altro hanno provato dal 2020 in poi dove gli è riuscito in parte ma grazie alla resistenza di tutti siamo riusciti a ritrovarci qua più forti che mai però appunto è da notare anche questo come un continuo riferimento a Moloch le varie cerimonie olimpiche la fissazione per Moloch e quel che sta accadendo uno può dire questi collegamenti io non ci voglio credere e noi rispondiamo sempre tu no ma loro sì loro si ispirano e seguono pedissequamente tutto ciò che fa riferimento a al passato ai babilonesi ai sumeri sono rimasti lì tutto lascia pensare che intanto c'è è ovvio che ci sia una fissazione il perché potremmo però è effettivamente così no? Sì il concetto di peccato originale è stato proprio inventato proprio per infilare nel subcosciente collettivo quel senso di colpa che doveva preparare proprio a un qualche cosa di molto meno trascendente e pragmatico no? Cioè il debito questo noi lo sappiamo benissimo oggi perché noi stessi anche le persone che sono qui su facciamo finta che se è entrato in una scuola se è entrato in un ospedale eccetera c'avete quella quella quell'ansia che ci è stata trasmessa specialmente poi nel dal 2011 in poi no? con da monti in poi no? Quindi del dell'austerità del bisogna di non ce la facciamo del del risparmio del del debito ecco adesso fino a qualche anno fa ogni bambino nasceva con un 40 mila euro di debito a testa no? E adesso chiaramente sicuramente sarà di meno perché dopo la ricetta da Laghi voglio dire sicuramente saremo migliorati non vado nemmeno a controllare guarda quindi per quanto ho fiducia di di Mario quindi il concetto di debito no? Quindi siamo passati da ce lo chiede Dio a ce lo chiede l'Europa ma in realtà l'Europa è comunque una l'abbiamo visto che cos'è l'Europa no? È uno stupro quindi è lo stesso Dio sostanzialmente lo stesso Dio dei banchieri insomma quindi Gesù si era incazzato col Dio dei banchieri fondamentalmente se mi viene concessa questa questa licenza poetica no? Ed è lo stesso problema che abbiamo noi solo che al posto di Gesù abbiamo Papa Francesco quindi è un problema no? Però quindi mettiamo da parte quindi questo sguardo ecco nel passato e torniamo purtroppo al giorno d'oggi no? Perché appunto il cristianesimo insieme alle altre religioni ha definitivamente abdicato attenzione quando parlo del cristianesimo mi riferisco anzi non al cristianesimo ma al cattolicesimo cioè l'istituzione che il cristianesimo è diventato no? E che può ridursi sostanzialmente alla banca del Vaticano quindi è ritornato ad essere una banca la banca che era prima tra parentesi ricordiamo che dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme tutto quell'oro che era lì stipato nel Tempio venne preso da Tito e da Vespasiano e venne portato a Roma ok? E nel contempo anche quell'elite che governava quel popolo si è spostata ha fatto le valigie. Poi c'è io le avevo parlato brevemente no? Del fatto che poi Giuseppe Flavio ha testimonia il fatto che da quel Tempio si sono alzati in volo insomma delle schiere celesti e sono andate via no? Ognuno poi le può interpretare come come meglio crede però se Giuseppe Flavio lo consideriamo come uno storico attendibile allora dobbiamo anche considerare che lui ha riportato che sostanzialmente da quel Tempio qualcosa si è alzato in volo e in cielo c'erano delle schiere celesti qualunque cosa siano queste schiere celesti. Però chiusa questa parentesi ufologica commentiamo così quindi ritorniamo ritorniamo al giorno d'oggi no? Cioè in sostanza dal 2020 in poi abbiamo assistito a tutte le religioni nessuna esclusa genuflettersi genuflettersi dinanzi a un nuovo culto una nuova religione in quanto a un impianto dogmatico quindi religione in quanto impianto dogmatico che è appunto la scienza no? Quella con l'acca finale quella con l'acca finale. In sostanza questo ovviamente è avvenuto con la complicità di tutti i corrotti rappresentanti di queste di queste religioni persino persino il Dalai Lama non si è salvato no? E col suo esempio malato giungo ha gettato un'ombra per esempio su tutto il buddismo no? E quindi soltanto forse il la chiesa ortodossa rappresentata dal patriarca Kirill si è sottratta diciamo a ai tentacoli eh schifosi di eh questa nuova di questa nuova religione che ha imposto dei una nuova liturgia dei nuovi sacramenti no? Quindi eh i seri benedetti eh dei nuovi paramenti no? Pensate alla mascherina eh pensate ai guanti pensate alla alla munchina no? E a tutte insomma la 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 poi la liturgia no? Cioè quindi delle cose da fare no? In quel caso la la liturgia del distanziamento sociale ecco eh quindi questi nuovi paramenti queste nuove liturgie queste nuove questi nuovi sacramenti e quindi un nuovo ordine sacerdotale il nel momento in cui persino le chiese sono state chiuse e i fedeli non hanno potuto entrare no? È morto è morto appunto il cristianesimo ma ma lo stesso vale vale per vale per vale anche per le altre religioni no? Visto che nessuno ha affiatato tutti quanti hanno obbedito e questo ha lasciato un segno se non nella parte cosciente nella parte comunque inconscia comunque nell'inconscio collettivo delle persone perché per la prima volta persino quelli più ortodossi di ogni culto hanno violato i loro stessi precetti no? E e quindi questo eh questo questo declino diciamo questo nel contesto del cristianesimo si parla proprio letteralmente di un' evaporazione un'evaporazione del cristianesimo no? L'immagine dei Bergoglio che si trova in una piazza San Pietro vuota era forse l'emblema di che cosa è diventato il cristianesimo e oggi le chiese sono vuote no? Ma perché le chiese sono vuote? Perché nel momento in cui eh si è si è tradita fondamentalmente no? Cioè anche le stesse persone i timorati di Dio no? Sono diventati sempre timorati ma non più di Dio ma della bestia. Siamo veramente dentro nel nell'apocalisse il che non vuol dire che all'epoca Giovanni chiunque gli fosse ci ha preso ma semplicemente che quell'elite malata che ci che insomma che governa miliardi di persone ha fatto di tutto per suscitare quelle immagini quei simboli sicché tutto ciò che era sepolto quindi nel nel nostro inconscio è diventato in realtà. Eh la paura ha dato ha conferito eh sostanza ontologica a dei simboli che appartengono comunque al nostro retaggio e che sono stati ravvivati dal quindi dall'alba oscura del duemila e venti in poi siamo entrati letteralmente tra le pagine della della dell'apocalisse no? Quindi questo nuovo culto eh è stato appunto suscitato dai suoi nuovi rappresentanti da un nuovo clero fatto di non solo di finti medici no? Che sono i neosacerdoti dopo tutto lo stesso cristianesimo no? È andato ad assorbire per esempio un altro dei culti che è quello di Asclepio no? Che appunto era il dio della medicina no? Eh quindi era un capolavoro di sincretismo culturale è il il cristianesimo. E quindi adesso noi abbiamo i nuovi sacerdoti più che di Asclepio di Glicone no? Cioè il quel fantoccio che scimmiottava Asclepio che nel 166 dopo Cristo è stato agitato dal finto profeta Alessandro Diabolutico no? Quindi era l'equivalente, il culto di Glicone fu l'equivalente della scienza di Murioni e Bassetti di oggi e con gli stessi fatti i risultati eccetera eccetera eccetera. E morale, le chiese sono state sostituite da che cosa? Le navate, i chiostri delle chiese da che cosa sono stati sostituiti? Dai cinema. Sono stati sostituiti dai cinema, dalle televisioni, dai smartphone, insomma da degli schermi di varie dimensioni. E le, i Vangeli, ecco, sono stati sostituiti appunto da delle serie tv, da di film. Ecco, la cellulosa ha sostituito la pergamena. Ecco che cos'è, ecco su che cosa è costruito il terzo, il terzo testamento. Perché? Perché dico questo? Perché il cinema abbiamo visto è un, è uno specchio magico, no? È come lo specchio magico delle fiabe. Da quello specchio puoi suscitare, puoi suscitare di tutto, no? E purtroppo coloro che hanno utilizzato questo specchio non hanno suscitato qualche cosa di bello. E quindi noi abbiamo visto utilizzare VIP, testimonial pazzeschi, no? Sottoprodotti dell'empirio hollywoodiano come modelli, come nuovi santi e come nuovi profeti. Il riferimento in questo caso è a quello che è forse il più grande, come possiamo definirlo, forse la più grande costruzione della storia di Hollywood, che è l'universo dei Marvel Studios. Perché noi attraverso i Marvel Studios abbiamo visto decine e decine di film girati da registi diversi, tutti costruiti in una sinergia perfetta, con una pianificazione scientifica, in tutti i sensi, no? Con diverse fasi, con diverse fasi, attenzione, perché esatta anche l'agenda 2030 prevede diverse fasi di attuazione, ok? Ebbene, se noi andiamo a guardare, e io ci sono andato a guardare, queste fasi, queste fasi non contengono semplicemente precetti dell'ideologia woke, no? Ok, oramai è arrivato il messaggio che attraverso le serie tv di Netflix, piuttosto che le fiabe della Marvel, scusate, le fiabe della Disney, eccetera, no? Cioè, stanno cercando di inculcarci delle, appunto, non so neanche come definirle, la dottrina woke. propaganda, tra l'altro, come diciamo sul canale attualità, con scarsi risultati perché continuano a perdere soldi. Esatto, quello poi, infatti, arriviamo alla fine perché io, la premessa qual era? Che questo è il loro piano, ma non vuol dire che allora funzionerà perfettamente, no? Certo è che però comunque ha intaccato milioni e milioni di persone, quindi non possiamo neanche dire che hanno fallito, no? Ecco, però quello, io, la mia analisi va molto più in profondità perché tutti quanti possono rendersi conto che se fanno cenerentola e la fanno con le sembianze di Michael Jordan, capite che c'è, cioè, è molto visibile, no? L'intento che, appunto, l'intento che si nasconde dietro, no? Se mi fanno i, la la fata e gli danno delle, un connotato sudamericano, per esempio, considerando che fate ed elfi appartengono alla cultura nordica, quindi non è una questione di razzismo o altro, è evidente. Mentre invece con i film della Marvel hanno fatto un qualche cosa di molto più sofisticato, ma non solo per veicolare, ripeto, dei precetti di questa dottrina malata che, appunto, è la cosiddetta ideologia woke, ma loro hanno anche anticipato eventi che sarebbero poi accaduti. A che scopo? Farceli introiettare meglio. Ora, ancora prima che invitarvi a, diciamo, a leggere il mio libro, perché io non faccio mai, diciamo, molto, molta pubblicità sui miei libri, perché poi non devo vendere nulla per forza, cioè chi mi ama mi segue, se no pazienza, amen, no? Questa volta faccio un'eccezione per il semplice motivo che il pubblico a cui è destinato sono prettamente i ragazzi, perché magari dall'altra parte dello schermo c'è un pubblico adulto che pensa che, appunto, i supereroi siano delle cose per ragazzini, per bambini, eccetera. In realtà, considerate che il pubblico a cui è destinato l'agenda 2030, no, e quindi i film della Marvel, così come i film della Marvel, sono proprio i nostri figli, sono proprio i ragazzi, e loro non hanno strumenti per potersi schermare da ciò, se noi non li aiutiamo in questo, in questo senso. Comunque, al di là del mio libro, il Terzo Testamento, vi consiglio di leggere anche, per esempio, un libro di Roberto Quaglia, perché lui ha portato, ha fatto capire, ha smascherato certe dinamiche malate di, che si nasconde dietro la propaganda hollywoodista, come la definisce lui, no? Ma, e vi spiego questo, questo, questo brevissimo concetto, cioè, non è soltanto una questione di aprire delle finestre di Overton, cioè, sostanzialmente, con dei film, anticiparci degli eventi, anticiparci degli eventi che poi dopo succedono, fino a quando, quindi anticiparci gradualmente delle cose che devono avvenire. No, qua è il, è vero questo, ma dall'altra serve per disattivare, per inibire dei meccanismi di difesa che sono dentro, appunto, dentro di noi. Mi spiego meglio. Il cinema, in sostanza, è una simulazione della vita reale, no? Aristotele diceva, per esempio, che il teatro era molto importante perché aveva il potere catartico, cioè, nel teatro venivano riprodotte delle dinamiche che non erano vere, però potevano esserle, tu potevi vivere anche tu nella tua vita privata quelle stesse identiche situazioni, no? E quindi era molto importante il cinema perché poteva guarirti, cioè, quindi risolvere magari dei, dei, dei dilemmi etici, no? Oppure, oppure, oppure poteva anche, poteva anche farti ammalare, no? Ecco, in sostanza, qual è lo scopo? Questo Roberto Guaia lo spiega molto bene, cioè, a che scopo anticipare certi eventi attraverso la fiction cinematografica? Lo scopo era confondere la linea di confine e di demarcazione tra quello della fiction e quello della realtà, sicché una volta che tu, all'interno della cornice del cinema, hai vissuto una dinamica magari brutta, violenta, che suscita in te emozioni terribili, no? Ma comunque sono confinate all'interno della fiction e quello ti rassicura, no? Il fatto che appunto non sia un qualche cosa di reale. Nel momento in cui quelle dinamiche accadono per davvero, tu, tu spettatore, reagisci esattamente come al cinema, cioè ne hai paura, no? Ma nel contempo pensi che sia un film. Questo è lo scopo. Cioè, in sostanza, disattivare quelle barriere che ti farebbero reagire in un modo incontrollato per il regime, no? Perché alla fine pensi che faccia parte di un film. Noi dal 2020 in poi, ragazzi, qua non si tratta di credere a Roberto Quaglia, Davide Ramuno, eccetera, guardate semplicemente gli ultimi quattro anni. E che cosa è successo? Cioè, in sostanza, abbiamo partecipato ad un film dell'orrore e dove nessuno si è alzato, o comunque pochissime sono le persone che si sono alzate da quella sedia e sono uscite dalla sala. Anzi, addirittura ne hanno trovato un... avendo riconosciuto la sceneggiatura, perché credetemi, assai poche sono le persone che sono state ingannate. La gente ne ha trovato un beneficio, una gioia nel far parte di un film, di quel film. Davide, di sicuro non ti sarà sfuggito il discorso di Draghi, visto che l'hai citato prima, sui teatranti della politica e sulla differenza tra chi il teatro lo fa e i meri spettatori, no? Esattamente, sì. Sì, diciamo che il nonno degli italiani, perché è anche giusto chiamarlo col suo titolo, l'ha visto che si è autodefinito lui, no? Nonno degli italiani, ha detto esplicitamente che cosa costituisce oggi la politica, no? E ha anche ricevuto un premio proprio da quel famoso Deep State di cui dicevo prima, no? Ecco, per i suoi per i suoi servigi, no? Ecco, quindi lo scopo, il cinema serviva a tal fine, serviva a tal fine, quindi disattivare quei meccanismi di difesa. Però attenzione, questo è il fine, ma poi andiamo a vedere come, come lo hanno fatto. Attraverso dei, degli influencer, no? Quindi che già la parola contiene quella cosa lì, che è contagiosa, no? Esatto, è così che hanno portato il germe della bestia, no? Con degli influencer strafighi, no? Pensate a Robert Downey Junior. Ecco, Robert Downey Junior, nonché Iron Man, chi è che non conosce Iron Man, lui è stato l'equivalente di Zarathustra nel Novecento, no? Ripersiamo a, ovviamente il riferimento è a così parlò Zarathustra nel 1883, un'opera di Friedrich Nietzsche. Lì Nietzsche fa l'annuncio del superuomo e quindi della, dell'Ubermensch. Annuncia una nuova umanità, quindi i transumani non hanno inventato un cazzo, ragazzi, no? Quindi ritorniamo al Novecento ed è la stessa identica roba, in salsa post moderna. Annuncia la morte di Dio e quindi, perché l'uomo non ne ha bisogno, no? E quindi l'annuncio di una nuova umanità, ecco qual è l'annuncio di Zarathustra, un Ubermensch. Ecco, nel 2008 invece esce Iron Man, è lui, è attraverso la sua immagine che viene annunciato il transumanesimo. Vedete, io sono nato nel 1984, che tra l'altro 1984 è stato un casino ultimamente, e sono nato nel, nell'incubo, aggiungo, di Terminator, di Robocop, cioè dei film sempre partoriti da Hollywood, ma in cui la macchina era un qualche cosa da temere, e comunque un qualche cosa che non superava l'essere umano. Pensate a Robocop, quanto fu, diciamo, profetico, realistico, no? Ma in Robocop la, la parte migliore, ecco, la parte migliore di Robocop, è la parte umana, ed è quella che va tutelata, questo è il messaggio del film. Tanto è vero che l'antagonista, l'alter ego di Robocop, no? L'antitesi di Robocop è una macchina che non distingue bene e male, questa è la, appunto, la superiorità dell'essere umano, l'etica, no? La legge morale di cui parla Kant, e che è paragonabile solo alla luce delle stelle. Ecco, lì invece, quindi questo è il messaggio, il messaggio è bello, cioè che la parte umana è quella che va tutelata, l'uomo, l'uomo non è soltanto una macchina, è molto di più di una macchina. Mi viene in mente la frase per quanto potenti potranno fare le macchine, saranno sempre solo delle macchine. Esatto, esatto. Fra l'altro io e te siamo coetanei e quindi oltre nel segno di Orwell, voglio citare anche il bicchiere mezzo pieno, perché proprio al 1984 usciva uno dei film più iniziatici ed esoterici di quegli anni che era proprio La storia infinita. Vabbè, quello... sì, diciamo che La storia infinita è un capolavoro perché fa capire veramente come non ci sia distinzione tra la fantasia e la realtà, no? Nel senso che proprio la storia prende avvio proprio dall'immaginazione, dalla fantasia, no? Ed è per questo che infatti i profeti di oggi, no? Che cosa sono? Annunciano il nulla, loro sono il nulla da cui mette in guarda l'uomo del di roccia, no? Il gigante di roccia, scusate. E ho paura io di quel nulla, credetemi. E quindi anche in Terminator, anche in Terminator, beh, lì si capisce qual è la direzione che prende il mondo, no? Cioè che cosa succederebbe in un mondo governato dalle macchine? Quindi viene visto in chiave negativa l'avvento delle macchine, no? Mentre invece con Iron Man, con Iron Man, le macchine sono fighe. Iron Man si può permettere, Robert Downey Jr., no? Si può permettere di dire che l'essere umano è un'anticaia che ha bisogno di un upgrade. Ecco, che ha fatto il suo tempo, che l'essere umano ha fatto il suo tempo. A dire il vero, Iron Man non congeda soltanto l'essere umano, ma congeda anche l'Ubermensch del Novecento, che nei fumetti trova due sostanze. uno è Superman, no? Nel mondo della Detective Comics, l'Ubermensch, Superman, no? E l'altro è Capitano America, il super soldato. Ecco, Iron Man congeda anche Capitano America, da qui infatti poi la dialettica tra Iron Man e Capitano America, no? Fatta molto bene nel film, che viene sempre relegato a un relitto del Novecento. Ma perché Capitano America era, diciamo, l'assolutizzazione del super soldato non, non, del super soldato nazista, no? Anche se potenziato da un farmaco. Infatti, infatti è quello il punto. Cioè, il buon Capitano America era un super soldato, non era che l'equivalente dei soldati nazisti e quelli americani, che hanno imparato molto bene la lezione, che erano strafatti di anfetamine, no? Ecco che cos'era nel Novecento il super soldato. Cioè, un uomo super forte con, quindi la potenza di una bestia sostanzialmente, e anche con le inibizioni a zero, che prendesse ordini. Quello era il super soldato. Quello di fatto è diventato l'Ubermensch. Nel Novecento si è tradotto nel soldato nazista e nel soldato americano, no? Il, ma, quindi era un prodotto della chimica, ma una chimica ancora, diciamo, primitiva, no? Perché la genetica non era ancora, non era ancora, non si era ancora strutturata come si è strutturata oggi. Lo stesso, infatti, Iron Man diventa ferro vecchio, diventa un'anticaglia per sua stessa missione, nel momento in cui viene annunciato sempre attraverso Iron Man un progetto, si chiama progetto, nel film viene chiamato progetto extremis, cioè il biohacking del, dell'essere umano. Attraverso che cosa? Un germe, non posso dire la parola, sintetico. Attraverso un germe sintetico loro hanno riscritto, riscritto il genoma. Vedete, anche nel film ci è stato detto qual era la problematica di questa nuova tecnologia genetica, no? E che quindi faceva passare anche la super armatura di Iron Man come un qualche cosa di primitivo, no? Perché la biologia della natura è incredibilmente sofisticata. Pensate a, noi siamo circondati da operi di ingegneria genetica, no? Andate in un, guardate una mosca, guardate un'ape, guardate un leone, eccetera, guardate una noce e guardate che, che incredibile, che espressioni di alta ingegneria, no? Troviamo. Ecco, eh, questo germe sintetico permette l'hacking del, quindi la modifica del, del genoma. Ma qual era, qual era la, 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 la fregatura, no? È che era molto instabile. Ecco, nel film che è Iron Man 3 del 2013, eh, si rappresenta allegoricamente questa instabilità, no? Facendo esplodere letteralmente i soldati, che sono le cavie, no? Le fanno, ecco, da noi invece hanno utilizzato le persone, non i soldati, li hanno però irrigimentati come fossero dei militari, no? Ecco, quella, quello che nel film è, veniva rappresentato come un'esplosione, nella realtà di oggi, si, eh, si manifesta come un cancro, eh, eccetera, eccetera. Ok. Quindi sindrome di immunodeficienza, eccetera, eccetera. Quindi vedete come, come ce l'hanno venduta, no? Bella con l'esplosione, no? Eccetera. Ecco, ma quella cosa lì l'hanno proprio in quegli anni, quindi Iron Man 3 esce nel 2013, dove viene introdotto appunto questo germe, eccetera, eccetera. E quelli sono esattamente gli anni in cui nascono società, no? Moderne, ecco, per richiamare il nome di quella che è la società, che nel nome stesso vuol dire mod RNA, cioè modificare e evitare il DNA attraverso l'RNA messaggero. Ok? Quindi loro ci hanno già sdoganato con Iron Man, ci hanno fatto accettare attraverso il carisma di Robert Downey Junior, il transumanismo come una cosa bellissima, no? Per non parlare di Venom e del simbionte che in qualche modo prende il sopravvento, arriva da un altro mondo, nel fumetto era solo cattivo, nel film finisce per creare empatia, vorrebbe creare empatia col pubblico per un parassita che diventa simbionte, che però poi in realtà anche un animo buono si lascia intendere. Allora, va detto che i prodotti della Sony sono meno toccati da quello che invece viene gestito dalla Disney, nel senso che io essendo un nerd, no? Avendo, ho letto sia, cioè ovviamente i fumetti li conosco e so cosa è stato modificato e con che logiche è stato modificato, no? È percepibile. Con la Sony l'hanno fatto molto 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 meno anche perché la Sony in genere ha sviluppato i propri prodotti in semi autonomia. Poi ovviamente come ha spiegato anche Franco Fracassi, ha documentato Franco Fracassi, tutti i film comunque del mondo Marvel che è della Disney, sono vagliati dal Pentagono. Quindi se qualcuno può pensare che noi adesso stiamo dicendo stronzati, dico ma o paranoia o altro, beh allora cioè per quale motivo il Pentagono dovrebbe prendere in considerazione vagliare, diciamo questo verbo vagliare, no? Tutti i film della Marvel per quale motivo? No. Ecco se guardate i film o leggete il libro lo capirete benissimo per quale motivo. Perché attraverso la Marvel loro rievocano episodi del passato, altro esempio sempre attraverso Iron Man, quello che successe a settembre del 2001 con le torri, no? Nel 2012 esce infatti il film dove c'è la battaglia di New York degli Avengers, no? Contro queste astronavi che vengono dal cielo. Ma che cosa vuol dire? Ecco lì c'era attraverso quel film è utilizzato una bellissima allegoria perché poi tutti i film successivi a quello degli Avengers vengono chiamati sempre, richiamati gli eventi di New York. Dopo gli eventi di New York il mondo non è stato più lo stesso. Ecco quello non è un richiamo al film degli Avengers del 2012, è un richiamo a quello che è successo per davvero a New York e come quella premessa, quella frase lanciata dai protagonisti, no? Dagli Avengers e che si riallaccia a quanto è successo appunto alle torri a settembre 2001, serve ad annunciare il vangelo del terrorismo e a rinvigorire, ad anticipare quello che sarebbe successo dopo? C'è la stagione del terrore che infatti poi abbiamo visto nel 2015 eccetera 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 in Francia eccetera. E infatti cosa viene, ma ci viene detto esplicitamente, la cosa che mi fa incazzare, che viene detto esplicitamente, sempre in Iron Man 3 viene appunto messo tranquillamente, viene detto proprio per filo e per segno quello che è stato Osama e quegli altri, no? Cioè bisognava dare un volto al male, no? Viene detto esplicitamente anche con i nomi e con i cognomi. Quindi che il famoso leader del terrorismo era un fantoccio degli americani, era un attore che veniva utilizzato per dare un volto al male, un Emanuel Goldstein, per richiamarsi sempre al 1984, da odiare. Pensate infatti al buono Osama quando è stato dato l'annuncio nel 2008, mi pare che era morto, a non ai minuti dell'odio, ma a tutti gli americani che sono scesi in piazza ad abbracciarsi eccetera. Quando ormai il buono Osama era già morto nel dicembre del 2001, da botta Baddlin in Pakistan. Quindi, ancora una volta ci vengono dati espliciti... Davide, la scena in cui il nuovo Bill Laden della Marvel si sono dovuto essere un attorucolo. Esatto. Quella è proprio parodia all'estremo. E anche là, perché hanno utilizzato, ti ringrazio di questo assist, perché hanno utilizzato quella parodia? Perché se fossero stati seri, avessero assunto il tono serio, tu avresti fatto chiaramente il confronto proprio con lui, e allora avresti pensato, cazzo ma allora l'hanno fatto per davvero. Mentre invece essendo parodizzato all'estremo, allora non sei arrivato fino in fondo al ragionamento. Quindi loro te l'hanno infilato quel ragionamento, ma non l'hai fatto fino in fondo, perché era super comico, forse eccessivamente comico, no? E anche quando il buon War Machine, che vuol dire macchina da guerra, quindi l'amico di Tony, no? Rivernicia la sua armatura diventando Iron Patriot, anche quello che esiste veramente nel fumetto, quindi non è una cosa che hanno fatto ad hoc. Però su quella riverniciatura del nome, lì prendono per il culo gli americani, esplicitamente, perché quando Iron Man dice, perché hai scelto questo nome, no? Lui dà la risposta che appunto, diciamo, non vorresti sentire. Nel senso che, ma la gente, no? Macchina da guerra fa pare brutto, no? E invece Iron Patriot è figo. Ecco, pensate a quello che è successo, no? Al Patriot Act, no? Perché chiamarlo atto di guerra, quale poi dopo ha dato vita, no? Non ha mica dato vita a tutte le guerre nel Medio Oriente, eccetera? Pareva brutto. Allora l'hanno chiamato Patriot Act, ok? Orwell, sostanzialmente. Quindi, loro hanno, ah, si sono collegati a degli eventi passati che chiaramente abbiamo, sappiamo benissimo essere non figli del, di guerrieri del Medio Oriente, eccetera, no? Che hanno utilizzato dei coltellini o altro, ma quindi hanno utilizzato degli eventi del passato e altri ne hanno anticipati, no? Come l'inizio della stagione del terrorismo e addirittura arriviamo anche a quello che sarebbe successo in Ucraina. Perché con il nuovo film, scusami, poi ti do la parola, Gianluca, degli Avengers, viene attaccato un paese dell'est Europa, ovviamente un paese fittizio, no? Ma chiaramente sovietico, di matrice, di matrice sovietico, e in cui venivano fatti degli esperimenti su delle persone, come i nazisti, no? Come se fossero dei lamposti nazisti. E lì che cosa ci va? Siamo nel 2014 quando esce il film Age of Ultron e nel 2014 quando succede quello, il periodo esattamente in cui avviene in Ucraina, appunto, quella guerra civile, insomma, sappiamo poi che cosa è successo a Euromaidan, chi vi era dietro, eccetera, eccetera, no? Ma lì che cosa abbiamo? Nel film abbiamo gli Avengers. Gli Avengers vanno in questo paese dell'est Europa a portare la pace, sostanzialmente, no? Ecco, all'epoca invece mandammo gli agenti della CIA, no? Che ovviamente vengono riverniciati come se fossero gli Avengers, perché è questo. Tu, quando gli americani intervengono, gli americani nella politica estera intervengono con l'intelligence, no? E tu li rivernici di Avengers, ok? Quindi sono fighi, sono quelli buoni, sono gli eroi buoni. Ecco che cosa sono gli americani, no? Sono gli Avengers, sono gli eroi. In realtà sono l'intelligence e sono quelli che fanno saltare in aria la figlia di Dugin e quelli che negli anni, nei 92, eccetera, hanno fatto saltare anche in aria, hanno dato il tritolo per far saltare in aria Falcone e Borsellino. Quindi ecco chi sono. Quindi sono questa gente qua. Quindi loro hanno anticipato già degli eventi che sarebbero accaduti. Quindi questa è una cosa, ovviamente ripeto, io adesso sto sintetizzando al massimo, poi nel libro dettaglio tutto quello che vi dico, proprio perché anch'io metto sempre in discussione ogni cosa, no? Però arriviamo alla parte, quello che penso sia anche più, più importante, nel senso dal punto di vista estetico, perché ci arriva direttamente, no? Sostanzialmente per creare quindi questo nuovo Vangelo, questo nuovo Testamento, loro avevano bisogno innanzitutto che le persone negassero, rinnegassero la propria fede. Questo è stato fatto in due modi, cioè da una parte, dal 2020 in poi, no? Abbiamo visto, le persone l'hanno rinnegata sostanzialmente, no? Quindi tutte le fedi sono, tutti quanti hanno rinnegato la loro fede, quindi non sono stati coerenti con nessuno dei loro precetti. Mi sono inchinati a dei nuovi sacerdoti, a dei nuovi sacramenti, eccetera, eccetera, eccetera. Però per poter farti abbiurare la tua fede, quella che sia, loro si sono serviti sempre di film della Marvel. A tal proposito, l'attacco mortale è stato sferrato contro le religioni abramitiche, no? Come? Attraverso, attraverso Thor. Ok? Io prima ho parlato di Iron Man, adesso andiamo a vedere che cosa comporta questo... perché Thor? Beh, allora, innanzitutto, chi è Thor? Non quello del film, ma nella, nella, nella religione, no? Nella, nella, per i peri, peri, per i norreni, quantomeno, no? Thor era il dio del tuono. Thor era uno degli Aesir, uno degli Ari, quindi era una divinità nordica e Thor aveva un tempio in Svezia, un tempio assai simile a quello di Salomone e questo tempio era appunto a Gamla Uppsala. Ok? A tal proposito, ribadisco, lo dico sempre a ogni trasmissione, vi consiglio di leggere veramente i libri di Cinzia Mele, che ha scritto insieme a Mauro Biglino sulla Bibbia e il Regno del Nord, o gli dei baltici della Bibbia. Così come anche le ricerche di Felicio Vinci, Omero nel Baltico, perché lì vengono portate le prove documentali che la, diciamo, terre, quali l'Egitto, piuttosto che, non so, l'Etiopia, eccetera, citate nella Bibbia, in realtà faccia un riferimento non al Medio Oriente, ma alla Scandinavia. Tant'è vero che infatti nella Bibbia non si parla di Mar Rosso, nella Bibbia non si parla di deserto del Sinai, non si parla di niente di tutto ciò, vengono utilizzati dei toponimi. Se voi andate a, per esempio, un esempio proprio classico, no? Non si è l'Egitto, non è l'Egyptos, ma è Mizrahi, piuttosto che anche il deserto del Sinai, in realtà il Sinai Corp, che è il Pasquo del Sinai. Quindi se non hanno trovato il Tempio di Salomone in Medio Oriente, è perché non c'è mai stato in Medio Oriente. Il Tempio di Salomone era in Scandinavia. Dubbio, avete un dubbio, sospetto, ma eccetera. Pensate semplicemente al fatto che Re Davide, così come appunto poi Romulo, Remo, aveva i capelli rossi, appunto, aveva la pelle bianca, capelli rossi, quante, quindi, cioè, che fenotipo è? Cioè, a che corrisponde una persona che ha capelli rossi e pelle bianca? Può avere tratti medio orientali, tra l'altro all'epoca, quindi non adesso, dove magari dopo in centinaia e centinaia di anni magari c'è capitato anche qualcuno dell'Europa dell'Est, no? In Medio Oriente. Ma al principio, al principio. Quindi, il, comunque, ripeto, leggete i libri e poi traete le conclusioni, no? Proprio perché le descrizioni, infatti, ci sono tutte e quindi non parla, parla da sé. Ma detto ciò, quindi, in sostanza, abbiamo visto che Thor apparteneva a Yaisir. Ecco, se noi andiamo a fare i confronti tra Yahweh e divinità anche della sfera medio orientale, no? Pensiamo a Ishkur, pensiamo ad Adad, pensiamo a Teshub, no? Erano tutti il Dio del Tuono, il Tonante, il Signore degli Eserciti, era la stessa identica roba. Quindi parliamo della stessa divinità, ok? E quindi, se andiamo poi a vedere nell'Antico Testamento, il, beh, l'Antico Testamento è intriso di aborti selettivi, le persone di eugenetica, chi era, anche persino l'animale che veniva sacrificato doveva essere puro e perfetto, non doveva avere, diciamo, deformità, ok? Chi era malato veniva lasciato fuori dalla tenda, no? Quindi queste sono, parliamo di eugenetica, parliamo di tutto ciò, non è che era completamente strano, anzi, no? Quindi in sostanza diciamo che queste, questi, questi divinità si assomigliano molto, pensiamo semplicemente a Yahweh, che è Geova, ricordi di Geova, che a sua volta, no? È Giove, e Giove è Elil, cioè Zeus, Elil, quindi parliamo della stessa identica divinità. Comunque, dopo questo salto, ne ho parlato nel libro Super, comunque, o anche in questo, comunque, lo approfondisco molto nel dettaglio, no? Attraverso Zeu, attraverso, scusate, Thor, viene beccato, quindi, l'ebraismo e il cristianesimo contemporaneamente. Perché? Innanzitutto come? Beh, viene ridicolizzato, all'inizio, attraverso, nel primo film di Thor, viene suscitato la cosmogonia norrena in un modo magnifico, no? E questo serviva perché? Perché appunto doveva sembrare reale. Dopo che l'hanno suscitato, l'hanno parodizzato, quindi dopo che hanno costruito quella, quella cosmogonia, la dovevano distruggere, infatti poi hanno cambiato regista, e infatti hanno, l'hanno distrutto, ma volontariamente, adesso io vi porterò le prove, così che pensate che sia un'idea mia. Thor doveva essere appunto ridicolizzato, e però fatto, ripeto, in un modo molto scientifico. Allora, allora, se pensiamo, scusate, adesso vado a cercare l'immagine. Allora, noi nel nel terzo, ok sì, Giallu, se vuoi puoi condividere la scena, l'immagine, scusate. Allora, questo qui, sto babbo, aggiungo, lo troviamo in Thor 3, che si chiama Thor Ragnarok, quindi è il crepuscolo degli dèi, no? Quindi, in sostanza, quando vengono uccisi tutti gli dèi, no? Ah no, scusate, questo è la, anzi, faccio un passo indietro. Uno dei film di Thor è, viene messo, diciamo, in scena appunto il Ragnarok, cioè quando, insomma, nella cosmogonia non rena il Ragnarok, quando alla fine muoiono tutti gli dèi, per mano di Loki, poi parleremo di Loki. Quest'altro, invece, è dell'ultimo film, terribile, che è Thunder e Love, o qualcosa del genere. Insomma, all'inizio del film ci troviamo questa scena abbastanza grottesca, dove abbiamo il buon Christian Bale, che, in sostanzialmente, soffre molto perché gli muore sua figlia tra le braccia, e il suo dio non fa nulla per salvarla, no? Ecco, morale della favola, Christian Bale, che interpreterà Gore, poi vedremo com'è, arriva a Proda in quest'oasi, si trova davanti questo fenomeno. Allora, guardate bene il copricapo e guardate, e guardate poi dopo, insomma, l'occhio che c'è sul copricapo, no? Perché assomiglierà moltissimo, appunto, a questo, ok? Lo ricordate il copricapo con tutti i raggi e l'occhio, eccetera? Questo è chiaramente l'occhio degli illuminati. Ora, puoi anche toglierla adesso. Cosa succede? Quello là viene, quella divinità, perché era una divinità, si chiama Rapu e viene anche aggiunto l'epiteto, che è portatore di luce. Viene detto sempre, portatore di luce, quindi è lucifero, è la lucifer, no? Quindi è portatore di luce. E attraverso quell'immagine viene distrutta, viene distrutta la, eh, la narrativa, l'escatologia, ecco, ebraica o cristiana, perché appunto viene sostanzialmente detto che gli dèi, agli dèi non gliene frega niente del destino degli uomini, ok? E che quindi non, ci sono, sono completamente impassibili, non interessa assolutamente nulla, sono anzi crudeli, no? Infatti quel dio là si mostra molto crudele, gli ride in faccia appunto a Gore, no? Che è interpretato magistralmente da Christian Bale. Perché è stato scelto Christian Bale? Perché Christian Bale aveva interpretato Mosè in Exodus. E infatti in questo film, proprio se ascoltate il dialogo, io poi lo riporto nel libro, si parla proprio, si menziona quel popolo lì, il suo popolo, quindi Gore è il rappresentante del suo popolo, esattamente come Mosè, no? E che appunto è destinato alla fine, è già stato quasi tutto estinto, non è destinato alla fine, no? Quindi perché hanno scelto Christian Bale? L'hanno scelto apposta, proprio perché lui era il Mosè di oggi, perché al cinema la gente, le nuove generazioni conoscono Bale come volto di Mosè, ok? E non in film che magari abbiamo visto noi all'epoca, che c'era quell'attore lì che si è legati tutti, no? Quindi è stato scelto appositamente, quindi pensate a quanto sono malate questa gente qua. E chi è che fa questo annuncio? Chi è che risveglia queste persone, no? Un rappresentante degli Illuminati, ok? Ecco, Gor diventerà dopo quella consapevolezza, quindi che gli dei non hanno fatto niente per salvare la bimba, sua figlia, no? Lui diventa l'uccisore degli dei, di tutti, perché appunto sostanzialmente arriva alla conclusione che quindi tutti gli dei di tutte le religioni sono, se esistono, impassibili ed estragni al destino degli uomini. Questa cosa qui diventa praticamente un dogma nel momento in cui poi tutte le divinità ci vengono sempre in questo film, vengono incluse, rappresentate in un limbo, in una in una città che si chiama Omnipotency, cioè la città degli onnipotenti, e lì viene messo in chiave patetica, no? Vengono rappresentati in chiave patetica tutti gli dei, adesso vi faccio vedere l'immagine, dove praticamente noi nel film vediamo questa famigerata Omnipotency, dove qua adesso c'è soltanto una parte, no? Comunque se vedete il film o il libro ci sono tutte le divinità, tutte, di ogni religione, di ogni cultura, eccetera, e sostanzialmente a che finalità, cioè queste divinità sono presiedute da Zeus. Ovviamente Zeus è la figura più importante, no? Che è riconosciuta da tutti, anche dagli atei, dagli agnostici, eccetera, perché Zeus è la figura patriarcale per eccellenza, la figura del Dio padre per eccellenza, no? E ovviamente non è rappresentato in un modo virile, in un modo, diciamo, anche magari austero o altro, no? In modo grottesco e patetico, tant'è vero che si servono purtroppo di un Russell Crowe, diciamo, abbastanza in, diciamo, insomma, diciamo che non è stato clemente il tempo fuori e fuori. Sì, sì, diciamo, no? Quindi doveva essere patetico, non doveva suscitare rispetto e timore, no? Quale difatti magari, tant'è vero, la gente stessa si immagina il Dio dei cristiani o degli ebrei o anche chi non lo può rappresentare come, insomma, con le stesse sembianze di Zeus, cioè un uomo muscoloso con la barba, no? Che ispira rispetto, eccetera. Quindi doveva essere patetizzato e anche tutte le divinità dovevano essere patetizzate, tant'è vero che tra le divinità addirittura si trova il Dio dei ravioli cinese, no? Fatta a cartone animato, per far capire che le divinità di tutti valevano quanto il Dio dei ravioli cinese, no? Cioè era una cazzata sostanzialmente, una cosa per bambini. E, a proposito di bambini, Torra a un certo punto si trova a dover salvare dei bambini e lui gli dice in un modo molto ridicolo, ragazzi purtroppo gli dice vi do una buona notizia e qua attenzione, si dileggia, si sbeffeggia la buona novella cristiana, ma lui dice vi do una buona notizia. La buona notizia è che se anche doveste morire perché non riesco a salvarvi, andrete nel paradiso norreno. Ovviamente il riferimento non è il paradiso norreno, no? Cioè il balalla, ma è il paradiso dei cristiani o quello anche per esempio dei musulmani, no? E i bambini gli dicono no tu ci vieni a salvare, cioè sono pragmatici, sfasano, no? Cioè non ci interessano di queste favole, ma viene detto esplicitamente, no? Quindi così viene appunto ridicolizzato ulteriormente l'escatologia delle religioni che appunto di matrice giudaico-cristiana. Vi dirò di più, lo stesso Tor all'inizio del film viene vestito come Gesù, uguale, che medita, che finge di meditare perché ovviamente la scena è patetica, ridicola, no? Perché si vede lui con le, appunto con le vesti da Galileo che è lì che medita in una finta pace, no? Perché? Perché il richiamo è proprio a quello del messia, no? E quindi sono tutti messaggi subliminali che ti infilano dentro la testa. E così dall'altra noi abbiamo Gor che diventerà l'uccisore degli dei, che viene invece rappresentato come il demonio, con le sembianze del demonio. E questo è molto, è molto strano perché considerate che comunque è un film il cui target sono proprio i bambini. Cioè, se guardate, adesso vi faccio vedere come viene rappresentato, capite che è esagerata la, l'estetica, insomma, di Gor, che adesso non riesco a trovare, no? Eccolo qua l'ho trovato. Se guardate, è terribile, veramente inquietante. Io tra l'altro l'ho visto al cinema, no? E quindi ricordate all'inizio, no? Che lui è quello che viene risvegliato da Lucifero, il portatore di luce, no? Che aveva il copricapo degli illuminati, no? Eccetera. Ecco come diventa dopo essere stato risvegliato. Cioè, in sostanza, praticamente, è un film diabolico, perché appunto tu porti, arrivi ad empatizzare non con Thor, sia anche quando è nelle vesti messianiche, eccetera, ma con il demonio, con il diavolo, proprio nel senso cristiano, diciamo, del termine. Ecco, quindi, in sostanza, attraverso Thor, loro distruggono, prendono a sassate, no? Proprio tutta la narrativa ebraica cristiana. Cos'altro aggiungere? Ecco, questo non è una, ripeto, una casualità, perché, e soprattutto non è soltanto attraverso Thor che viene fatto ciò, anche attraverso il dotto Strange, no? Viene attaccato non solo il cristianesimo, ma anche, per esempio, il buddismo. Pensate semplicemente a Strange quando a un certo punto, al di là del fatto che viene ridicolizzato tutto, quindi non c'è nessun culto, nessuna filosofia o ideologia che si salva, no? Al fatto che arrivano a Camartagi, che sarebbe l'equivalente di Agarti, no? Dove il più grande segreto è la password del wifi, no? Che la, ecco, Agarti in realtà è la password del wifi, no? Piuttosto che, esatto, piuttosto che la filosofia, quindi lo yoga e le pratiche meditative, trascendentali, eccetera, vengono associate semplicemente a della magia, dove c'è Strange, che era un medico arrogantissimo, la impara facilmente, no? Cioè non ha rinunciato a nulla del suo ego, no? E quindi è come studiare un libro di magia tranquillo. Tra l'altro magia nera, neanche magia, ma magia nera, no? E infatti anche il concetto di terzo occhio, che appunto è un qualche cosa di spirituale, che ovviamente a cui corrispondono delle ghiandole, no? Il sistema endocrino, pensate appunto all'ipotalamo, eccetera, 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 quindi anche il concetto dei vari chakra, comunque si declina biologicamente, no? Con il nostro apparato endocrino. A tal proposito vi consiglio i libri del dottor Lissoni, tipo scienza e magia, appunto. Lì viene visto in chiave negativa e patetica, no? Cioè... A tal proposito, scusami Davide, abbiamo fatto una puntata proprio con Lissoni. Esattamente, sì. E la ghiandole a PNA. Esattamente, bravo. E mi fa piacere che te la ricordi, perché anche a me è rimasta impressa in cuore. E... E lì, appunto, il terzo occhio è semplicemente quest'occhio che si apre nella... sulla fronte, ed è un occhio demoniaco, infatti io ve lo faccio vedere. Eh... ecco qua. Se guardate, vedete, non è soltanto, quindi oltre a essere patetizzato il concetto di terzo occhio, ma questo è chiaramente l'occhio dei cosiddetti illuminati. E, manco a dirlo, ragazzi, nel film, per esempio, il Dottor Strange, chi viene inserito, chi viene dato, chi viene annunciato? Gli illuminati. Ma nel film, gli illuminati sono dei supereroi, sono delle persone sagge, sono delle persone potenti, ma che, che diciamo, scelgono per conto del mondo, ma perché loro in fondo sono saggi, no? Sono dei tecnici, sono dei tecnocrati, quindi loro sanno qual è la cosa giusta da fare, no? Sono dei supereroi, perché se voi pensate che le persone che decidono il vostro destino sono dei supereroi, allora è più facilmente accettabile. Capite qual è, quindi, il fine, no? Quindi loro, attraverso i film della Marvel, hanno inseminato la mente dei ragazzi, perché, ripeto, per voi magari Thor, Capitano America o altri sono degli sfigati, sono delle cose per bambini o altro, ma le nuove generazioni, no? Sono state inseminate con questi messaggi subliminali, questi messaggi subliminali e addirittura con poi finestre di Overton benefiche, perché, appunto, hanno anticipato eventi. Io porto le prove, infatti, come per esempio la guerra dell'infinito, Infinity Wars, quindi lo scontro finale con Thanos, eccetera, era esattamente quello che è successo nel 2020 con quella roba lì che era una preparazione, hanno preparato tutti questi film qua dovevano convogliare verso un orizzonte degli eventi, no? E infatti è Thanos era la bestia, Thanos era la bestia, Thanos, infatti, morte. E come si è palesata, come si è palesato il piano, perché Thanos parla di piano malthusiano, no? Cioè di togliere, di azzerare metà degli esseri viventi per far, perché c'era bisogno, perché le risorse non bastavano per tutti, no? Ecco, per chi ha seguito il film sa che nel momento in cui Thanos ottiene tutte le gemme, uccide metà degli esseri viventi. Ecco, lui in quel momento aveva i poteri di un dio, avrebbe potuto tranquillamente esprimere il desiderio, nell'eventualità in cui le risorse siano veramente limitate e che quindi non bastassero per tutti, avrebbe potuto esprimere il desiderio tranquillamente allora di moltiplicare all'infinito le risorse, ma non lo fa. Invece semplicemente decide di, fa un forfettario 50%, no? E dice fa sparire metà degli esseri viventi. Questi esseri viventi ovviamente erano le persone. E come muoiono queste persone? All'improvviso. Non è neanche una morte che arriva graduale, gradualmente, perché chiunque abbia perso, chiunque di voi abbia perso qualcuno di importante nella vostra vita per un tumore o queste malattie degenerative, eccetera, sa come, diciamo che almeno si è preparato psicologicamente alla morte di questa persona. Ed è terribile veder morire qualcuno gradualmente, ma può essere ancora peggiore vedersela portare via all'improvviso. Perché quello è un vuoto, è un buco, che non, che non, che è un buco nella mente, un buco nel cuore che distrugge la tua quotidianità da un momento all'altro. Ed è quello che sta succedendo oggi. Ed è quello che viene, ed è questo spettacolo terroristico, questo sì che è uno spettacolo terroristico, viene rappresentato in un modo incredibile nel film, dove si vedono le varie scene dei vari supereroi, dove all'improvviso si dissolvono, no? E quindi, infatti lì, le attenzioni su chi sono, su dove viene, si soffermano le scene, su Spider-Man, che è un adolescente, un ragazzo, infatti le scene sono proprio nelle scuole, è lì che viene, che si insiste, no? Che si insiste con la, con la regia, no? Sulle scuole, sui ragazzi, no? E proprio Spider-Man, infatti è lui, è il ragazzo, lui non vuole morire, perché lui non è l'adulto che magari può essere pronto alla morte, il ragazzo no, il ragazzo è giovane, no? È nel pensiero quello che dovrebbe essere il periodo più, più dispensierato, ecco, della, della propria vita, no? Ecco, questo viene anticipato nel film, appunto, la, la Infinity Wars, e viene poi dopo, ho realizzato qualche anno dopo nella, 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 nella vita, nella vita. Ecco, quindi questo, questo terzo testamento non è neanche, è un, è un testamento che è già malato dal principio, perché anche il cristianesimo conteneva dei vizi, no? La, la figura di Gesù è stata ripulita, è stato, è stata ripulita di ciò che poteva essere pericoloso, perché avevano bisogno di sudditi mansueti, no? E quindi il porgi e l'altra guancia, no? Si prestava perfettamente alla, alla resilienza dell'epoca, no? Era il martire, all'epoca era il martire, oggi invece è il resiliente, no? Perché non dovevi rompere le palle. E quindi non, il, il leader di questa religione non doveva invitarti invece a, ad avere ciò che è giusto e a lottare per ciò che è giusto, ma in una prospettiva futura, no? Ti veniva concesso quantomeno un, un rimborso di quello che tu avevi patito, no? Ecco, invece comunque il nucleo del cristianesimo comunque è stato, nonostante tutto il veleno, nonostante il malicidio, nonostante le crociate, nonostante tutto, comunque c'era una parte del cristianesimo che era invece un qualche cosa di magnifico, ed era il discorso appunto della montagna di Gesù, no? Ecco lì viene sintetizzato perfettamente l'amore per il prossimo, un amore genuino, ma un amore non soltanto anche a tuo figlio, ma anche a un qualcuno che magari non lo meritava, perché sennò che merito ne avremmo, se massimo solo chi ci rispetta, no? Per un semplice motivo di fare la cosa giusta, no? Questo è la critica della ragion pura, della ragion pratica di Kant, cioè agisci come se la tua massima venisse estesa universalmente, ecco, è la legge morale, quindi tutti quanti sanno ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, a prescindere dalla cultura, ecco, questo è il cristianesimo, mentre invece l'ideologia woke, che è l'anima pulsante di questo terzo testamento, è malata, non c'è, non c'è una parte che si salva, non c'è niente, non c'è nulla che va custodita. Ecco, questa è la religione che hanno sapientemente disegnato per noi. Ecco, questi soggetti sono molto lungimiranti perché anche oggi nelle barricate della controinformazione, no? E si può correre il rischio di pensare, no? Pensate a quello che sta succedendo in Medio Oriente, no? Che i popoli possano essere colpevoli. Ovviamente, beh, io sono italiano e l'Italia è forse, penso, uno dei paesi più omertosi, omertosi della storia, no? Cioè dove sostanzialmente la maggior parte della popolazione è sempre stata dalla parte del più forte, del signore di turno, no? E quindi ha sacrificato sempre sull'altare della storia i propri eroi. Però noi oggi siamo in questa situazione non per colpa del popolo americano, non per, non sono né il popolo americano che ha fatto tutto ciò, no? Pensate semplicemente anche al fatto che le elezioni, cioè quelli avevano votato un altro, quindi pensate, o anche pensate a quello che succede adesso in Medio Oriente, no? Non sono i popoli, loro stessi sono le prime vittime disegnate, tanto che lo stesso impero americano verrà sacrificato, come è successo con, con anche quello stesso impero romano, sugli altari della storia, perché è già stato preparato un poi, è già stato preparato un nuovo, un nuovo teatro su cui, in cui, diciamo, trasportare il circo, ecco, no? Dove? Dov'è? Qual è questo teatro? Questo teatro del domani, quando l'impero d'Occidente crollerà definitivamente, no? Quando questo, questo, uno, diciamo, dei, degli indizi, se così vogliamo chiamare, che ci viene lanciato, è in Kazakistan. Ma perché il Kazakistan? Mi sono chiesto, storicamente. Il Kazakistan faceva parte della Russia, no? Dell'Unione Sovietica, scusate, dell'URSS. È uno dei paesi che, appunto, si è staccato dalla Russia, dall'Unione Sovietica. Ecco, pensate che, però, la maggior parte della popolazione è russofona, quindi, eh, il legame è ancora molto forte con la madre Russia, no? E quindi, eh, quindi, la Russia è l'unico paese politicamente che sia opposto a questo disegno, ok? Come già, tra l'altro, successe una volta, nella, insomma, è successo diverse volte che i russi hanno tolto le castagne del fuoco all'Occidente, però in questo caso il Kazakistan, insieme, per esempio, all'Ucraina, facevano parte di un impero, erano l'impero Kazaro, che è quello che è stato, eh, diciamo, eh, sostituito, insomma, la fine dell'impero Kazaro è stato, eh, avviato da, proprio da, eh, innescato proprio dalla Russia, no? Ha conosciuto il proprio perché, appunto, i russi, eh, hanno preso il loro posto, no? E la, 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 i russi di Kiev è da lì che poi è partito, insomma, adesso non abbiamo tempo adesso per entrare nel, nel, nel dettaglio, no? Però diciamo che, cosa, cosa voglio dire, ragazzi, qual è, qual è la sostanza, la, la, il, il, il ragionamento, ripeto, non ho molto tempo per poter entrare nel dettaglio, però il, il Kazakistan è innanzitutto una terra molto, molto ricca e che, e benché abbia una, la, la maggior parte della popolazione, eh, sia russofona, non è iscritto nel circuito russo, tra l'altro in questi giorni Putin è stato proprio in, in, in Kazakistan ad Astana, la capitale, no? Tant'è vero e la prova di ciò è che il Kazakistan ha applicato le sanzioni economiche alla Russia, ok? Quindi ha seguito la linea occidentale. Eh, ecco, se noi andiamo ad, in Kazakistan ad Astana, lì troviamo, eh, lì troviamo tutti, diciamo, i monumenti che rappresentano le, eh, le religioni, le religioni, insomma, abbranitiche, no? Lì trovano, lì è la, 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 Astana è stata scelta come capitale di questo ecumenismo, di questa nuova religione mondiale, in cui tutte le religioni, tutti i culti dovranno dissolversi, cioè, in un nuovo serbatoio universale, in un nuovo serbatoio inclusivo, in una nuova Weltra, c'è una nuova religione. Quindi, cosa sto dicendo? Attraverso i film hanno depauperato, hanno svilito tutti i culti del pianeta. Lo hanno fatto fare a noi, mettendoceli in chiave parodistica, no? Non li hanno negati, perché sennò si entrerebbe in una, in una guerra di religione, no? Si entrerebbe in un'eterna jihad. Quindi l'hanno fatto fare a noi, quindi siamo noi che abbiamo abbiurato le, le, i nostre, le nostre, le nostre religioni, e loro formalmente ce li hanno presentate tutte, hanno presentato tutti i monumenti, adesso ve li fanno vedere. Per che cosa? Per dissolverle in una nuova religione mondiale, no? Alla, ovviamente tutto ciò viene venduto sotto il vessillo della pace, perché abbiamo visto che le religioni portano una guerra, ma in realtà non sono, le guerre non scoppiano mai per motivi religiosi, quelli sono solo pretesti, sono sempre motivazioni economiche, no? In questo momento non c'è una guerra tra musulmani ed ebrei, non c'entrano niente le religioni, sono, e che, e che lì a Gaza, a 20 media da Gaza, è stato trovato questo, il Leviathan, che è uno dei gasdotti più, più ricco di tutto il Mediterraneo, tant'è vero che l'anno scorso il buon Mario, no? Andò lì a fare un accordo in Israele, proprio perché l'Italia doveva essere l'hub di tutto il Mediterraneo, ve lo ricordate? Io me lo ricordo. E infatti adesso ad ottobre, che cosa è successo? Che Eni ha vinto una licenza per andare a estrarre lì. Il problema è che questo gas è anche di quelli lì, no? E quello, considerando che la terra di Israele non vale nulla, perché è un pezzo di deserto che non vale niente, su cui ci hanno dovuto investire risorse, hanno dovuto combattere ogni giorno perché quegli altri non hanno mollato un centimetro, no? E adesso invece hanno trovato qualche cosa di importante, no? Hanno trovato qualcosa di importante e quello deve essere sotto, sotto di loro. E non solo, hanno già pensato a un'altra, a un'altra patria, no? A cui, in cui andare, che per provvidenza divina, no? Uzeneschiana, è stata, guarda caso, depopolata e che è molto ricca anche quella e quella parte lì, questa terra, manco a dirlo, faceva parte dell'impero cazzaro. E chi c'erano i cazzari? I veri, i veri antenati del popolo di Israele? No, persone che invece hanno, ci sono, hanno assunto quella religione per questioni pragmatiche, no? Per opportunismo, no? E sono i discendenti di quella gente lì, sono oggi esche naziti e sono un quarto della popolazione israele. Questo è il giro. Detto ciò, voglio farvi vedere questi monumenti, poi andrei verso la chiusura perché poi non voglio neanche farvi fare le ore piccole, per dimostrarvi come sia stato preparato proprio in sinergia e con la collaborazione di tutti i rappresentanti delle varie fedi religiose, compreso il nostro antipapa Bergoglio, no? Che il 14 settembre dell'anno scorso, nel 2022, si recò appunto a questo congresso, a questo concilio ecumenico appunto tranne il rappresentante della chiesa ortodossa, Kirill. Ora adesso vi faccio vedere, allora, che cosa abbiamo? Allora, per esempio, questa è la moschea di Nur. La vedete la cupola d'oro? Il richiamo, ovviamente, è alla moschea che c'è a Gerusalemme, sulla spianata, no? E quindi questa è una delle più importanti di tutta l'Asia, penso forse la terza più grande. Poi abbiamo, ecco qui, qui troviamo le Golden Towers, no? Con in fondo il Palazzo Presidenziale, il palazzo, non so se riuscite a vederlo bene, il Palazzo Presidenziale è una sorta di ibrido tra la Basilica di San Pietro e il Campidoglio che c'è appunto a Washington. Ma queste Golden Towers perché sono importanti? A che cosa si richiamano? Si richiamano alle torri dorate, in realtà erano di bronzo, del Tempio di Salomone, ok? Ossia il riferimento è a Boaz e Iakin. Ecco che cosa rappresentano le Golden Towers, no? A sua volta quelle famose, quelle altre torri famose, infatti che cosa rappresentavano? Esattamente appunto le torri del Tempio di Salomone e del motivo per cui io nel libro la caduta di Babilonia, anche della massoneria, di ogni tempio della massoneria. Ed è il motivo per cui io infatti nel libro la caduta di Babilonia fece il parallelismo, anche per questo motivo, no? Cioè quelle torri la richiamavano proprio quelle del Tempio di Salomone. E poi arriviamo anche alla piramide, quella è proprio ancora più eclatante, però vediamo se ce l'ho qui, se no la trovate… allora… scusate che non ho gli occhiali, eh? Niente, non la trovo, però se la piramide famosissima di Astana si chiama Palazzo della Pace, no? Ecco lì dentro è dove si riuniscono, dove si sono riuniti tutti i rappresentanti delle varie fedi religiose, e a che pro? Perché è Palazzo della Pace, no? Perché si dà già per implicito che appunto queste religioni innescheranno una guerra, e quindi stiamo già parlando del dopo, no? E quindi bisogna mettere da parte la spada, esattamente come viene fatto vedere nei murales dell'aeroporto di Denver, no? E quindi per creare una nuova religione che sia pacifica, no? Ecco, il sotto quale manto, sotto quale vessillo? Quello della religione solare, insomma, quello del culto del culto del sole, no? Quindi è in realtà uno step indietro, no? Un passo, lo stesso cristianesimo ha assorbito lo zoroastrismo, il mitraismo, no? Che avevano come, diciamo, fuoco portante di tutto il culto, insomma, il sole, no? Come creazione. Pensate al concetto di sole invictus, è Natale, no? Quello che si festeggia, è per quello che è stato scelto il 25 dicembre, no? Quindi, esatto, questo è il palazzo della pace, è il palazzo della pace che appunto è la piramide di Astana, guarda il vertice della piramide, questo è tutto massono. E questo è distillato di, è grappa di massoneria al 100%, no? Quindi, ecco qual è lo scopo. Loro non hanno fatto semplicemente un incontro così per parlare del più e del meno, ma stanno già progettando, appunto, hanno già progettato, hanno già fatto in modo proprio di tessere questa nuova religione mondiale per un nuovo ordine mondiale. Tant'è vero che, pensate così, per dirne una, il film di Capitano America che dovrà uscire si chiamava New World Order, poi si sono resi conto che era troppo specifico, cioè era proprio esplicito, no? Cioè voleva dire proprio dare ragione all'Ilaria Bifarini, e ha detto vabbè, allora, allora no. E allora l'hanno chiamato Brave New, Brave New Order, ok? Tra l'altro vi dirò, vi dirò di più, nel, nell'ultima serie tv che ha fatto la, la Disney, a proposito di anticipare gli eventi, questa ve la, ve la lancio così nel, dal balcone, si chiama Secret Invasion. Allora in molti a prima vista potrebbe sembrare una sorta di visitors, no? Una, un reboot di visitors, no? Quindi con invasioni di alieni che sono sempre tra di noi e, e che insomma, e che quindi possa essere in realtà una, una prima finestra di Overton sullo sdoganare, l'esistenza di extraterrestri, eccetera. Ma se andate a vedere, benissimo, andate a vedere quello che poi tra l'altro è stata una delle peggiori serie tv, perché lo scopo non era, lo scopo era ben altro, non era quello di parlarci, insomma, degli Skrull, degli questi alieni o altro, avevano uno scopo di anticipare eventi che sarebbero successi dopo, no? Se voi andate a vedere, quelli, quegli episodi sono intrisi dell'escatologia giudaica, tant'è vero che si insiste moltissimo sul fatto, sulla terra promessa, sul concetto di terra promessa, che bisognava dargliela a questi Skrull, questa terra promessa, perché gli americani lo avevano promesso, no? E quindi ogni episodio praticamente è un, è un capolavoro di dietrologia, no? Perché viene anticipato quello che poi sarebbe successo, appunto, ad ottobre, però non vi dico di più perché sennò non vi comprate il libro, e no, scherzi a parte, però, veramente, io vi porto tantissimi esempi di come loro hanno anticipato eventi su larga scala e, appunto, hanno favorito l'introiettamento di quello che poi dopo sarebbe successo, ma mascherandolo sì, di allegorie. Quindi, questo è, mi sono anche dimenticato, ma non è che mi sono dimenticato, è che purtroppo non c'è molto tempo, tra, diciamo, visto che in questo periodo si parla di patriarcato, ovviamente la donna, allora, diciamo che nella guerra al patriarcato non c'è una vittoria, non c'è qualcuno che vince, persino anche la donna, visto che la donna è la metà complementare dell'uomo, se viene distrutto l'uomo, viene distrutta anche la donna. Ecco, loro hanno, noi nel cristianesimo, così come poi dopo nelle altre religioni e mitologie, c'è sempre una figura femminile di riferimento. Ora, non voglio farvi la lezione sul femminino sacro, la dea madre, eccetera, eccetera, perché ci sono persone molto più qualificate del sottoscritto, dall'Erica Perrucchetti, la Valentina Ferranti, che hanno scritto molto sull'argomento e quindi vi rimando tra le loro braccia. Ma loro hanno fatto nel Nuovo Testamento, nel Terzo Testamento, che cosa è stato? È stato proposto un nuovo modello femminile. Femminile per modo di dire, no? Una nuova Madonna, sì. E questa Madonna, chi è? È Capitan Marvel. Tra l'altro, che caratteristiche ha questa? lei non deve, lei è completamente estranea al mondo maschile. Tant'è vero che non l'unico uomo con cui si relaziona è uno che vuole imporle delle attitudini, delle regole, eccetera, no? È pressante, non ha comunque nessun tipo di relazione. Lei è una donna molto bella, perché l'attrice è molto bella, ma non è femminile. Non, la bellezza non viene ostentata, e questo per carità, non è una, non è questo il difetto, no? Ma il fatto è che lei è asessuale, lei è neutra, lei è asettica. E tra l'altro vive come? Vive quando, lei ha soltanto un'amica, che ha una figlia, e anche questa cosa, non c'è un, in questa, in questa strana famiglia non c'è l'uomo, non viene menzionato in nessun contesto, no? Non viene, eh, all'uso a, a, al mondo LGBT, no? Però viene lasciato nello sfondo, viene fatto intuire, no? Comunque gli uomini non hanno parte in quel mondo lì. E che simbolo usa però? Eh, che simbolo usa Capitan Marvel? Cos'ha sul petto? Che è la stessa, se consideriamo che appunto la Maria... Hai il microfono dove hai fatto... Ah, ok. Quindi la stella di Ishtar, no? Ossia la stella a otto punte, e infatti se noi andiamo a vedere Maria, quindi il culto della Vergine Maria, andava a sovrapporsi a quello di Ishtar, piuttosto che Astarte, piuttosto che Atena, e insomma, è sempre, è sempre la solita cosa, no? Ecco, loro quindi propongono un nuovo culto di una dea non madre, non madre, questo è il punto, no? Per, perché la maternità deve essere distrutta. Perché? Perché noi dobbiamo morire, ragazzi, e cercate anche voi un pochino di aiutarli, no? Perché noi da otto miliardi dobbiamo arrivare a tre, scusate, è chiaro che non può essere proposto il culto della dea madre, perché la maternità deve essere desintegrata, come? Promuovendo l'omosessualità, come? Distruggendo il, mettendo, insomma, i sessi l'uno contro l'altro, distruggendo l'identità sessuale, insomma, lo sapete già, è inutile che ce le raccontiamo, no? E quindi viene proposto un modello di donna neutra, che si emancipa distruggendo, anzi, neanche distruggendo l'uomo, ignorando completamente il mondo maschile, come se fosse un accessorio inutile, eccetera, no? Quindi ecco il nuovo culto della dea madre, ma sempre utilizzando però quel simbolo proprio per innestare una sostituzione. Quindi tanto è vero che se voi vedete le, anche le altre protagoniste del pantheon della Marvel, femminili, hanno sempre delle caratteristiche. Pensate, la vedova nera che è interpretata dalla bellissima Scarlett Johansson è sterile, lei è l'unica a cui viene concesso di ostentare la sua bellezza, ma allora come, cosa viene, cosa, cosa, cosa succede, no? Innanzitutto viene utilizzata per distruggere la cultura russa, facendoci credere che ancora siamo ai tempi dell'Unione Sovietica e di Van Drago, no? Incontro Rocky Balboa. E dall'altra, e dall'altra è sterile. Quindi l'unica, all'unica donna che è concesso di essere tale, no? È sterile. Quindi non a caso, oppure abbiamo, per esempio, pensate alla mitologia norena, a Thor, lì, allora, Odino, dopo averlo evocato con il magnifico Anthony Hopkins, viene ridotto a barbone, distrutto, quindi prima va creato il mito e poi distrutto, e poi viene distrutto, viene polverizzato, viene polverizzato Asgard, addirittura Thor, il martello di Thor che solo lui potrebbe impugnare, lo può impugnare anche appunto la sua donna, lo può, e viene polverizzato sempre da una donna, no? Viene infranto il mito di Thor e la, e diciamo, quello che lui rappresentava, i valori che lui rappresentavano, e una valchiria addirittura diventa neanche regina degli dei, ma re, quindi al maschile, no? Diventa lei il re degli dei, neanche regina. Ecco, questo quindi è un nuovo culto di una dea, però non madre, ecco, il culto della dea non madre, e sempre attraverso, quindi, questo nuovo nuovo punto testamento. Quindi ragazzi, io adesso vi ho detto tutte le cose brutte, le cose belle, non le dico perché, allora, o dovete comprare il libro, perché poi cosa succede? C'è la reazione, no? Loro, questo è tutta la merda che loro hanno seminato dentro di noi, ma che cosa succede? Se tu, lo spirito del mondo, diciamo che è una dimensione che trascende questa, che è costellata da simboli e da archetipi, da archetipi, no? Gli Eidos di Platone sono gli stessi archetipi di cui parla Jung, però nel momento in cui tu vai a suscitare uno di questi archetipi, per reazione, si innesca, si innesta anche l'antitesi, no? Per ogni germe c'è l'anticorpo. Ecco, loro hanno avvelenato la nostra coscienza, il nostro inconscio anzi, con questi archetipi benefici, no? Però non avevano calcolato che nel mentre loro facevano, quindi avvelenavano i pozzi, le religioni hanno, dunque hanno partorito dei salvatori, no? E quindi il mondo, nel momento dell'apocalisse ha ridestato dal proprio inconscio dei salvatori che si sono palesati sempre attraverso il medium del cinema hollywoodiano, ma non per questo non hanno, non avranno conseguenze reali, storiche, sulla nostra vita. Quindi questo è, mi fermerei qua, quindi vi manderei in pace, perché Papa Francesco non lo fa più, perché adesso c'ha l'influenza, nonostante tra l'altro pensavo fosse stata debellata con le mascherine, quindi cado dalle nubi, cioè non, come è possibile? Ma poi ce l'ha a momenti alterni, una mattina ce l'ha, il pomeriggio non ce l'ha, dipende. Però su Twitter vedo che scrive, cioè, buh, non so, io non lo so, però vabbè. Staremo a vedere, diciamo che comunque teniamo le dite incrociate che possa, vabbè, diciamo. Allora, ovviamente sono dei riferimenti, ma se non li ho visti non importa, ti sei perso poco, come al solito, è una lettura a più strati. Davide si è spinto molto in profondità, ai ragazzi di solito piace gli effetti speciali, le distruzioni, tutto ciò che hanno investito a livello mondiale. In Marvel c'è un investimento a livello mondiale, si parla di nuovo di record, di incassi mondiali, proprio per tutta una serie di propaganda che è stata fatta come non mai, eh? Quindi anche... Ma pensate allo sciopero che c'è stato a Hollywood, no? Vedete, le bugie funzionano nel momento in cui vengono raccontate sempre costantemente. Basta che si allenti un attimo quella macchina della propaganda che cominciano i problemi. Ecco, quella che c'è stato adesso con lo sciopero che c'è stato che è durato mesi, ha fatto allentare le maglie di questa propaganda totalitaria. E avrà delle conseguenze, avrà delle conseguenze ovviamente, no? Anche perché adesso il tempo sta accelerando sempre di più perché noi siamo sempre di più alla fine di questa civiltà, della civiltà occidentale, no? Siamo proprio veramente avviandoci verso la fine verso la caduta di Babilonia, no? E quindi appunto adesso le cose stanno precipitando, gli eventi precipiteranno sempre, sempre, sempre di più. Quindi non... questo è il punto. E quindi anche la loro narrativa è destinata a sfaldarsi. Vedete che non è un caso che è stato questo, è stato penso il più grande sciopero della storia di Hollywood, forse ce n'era stato qualcosa di simile tantissimi, tantissimi anni fa. Insomma, eh... ne vedremo delle brutte. Ecco. Ecco. Basti pensare, vi lascio così, questo è una nota di attualità, ma sarà una nota di storia per chi ci seguirà in futuro. Mi piace pensare che queste puntate, queste tematiche possano essere senza tempo. nel momento in cui noi vi stiamo parlando, il 29 novembre 2023, molti, anzi, in realtà sempre troppo pochi, ma in realtà diversi attori hanno chiuso la loro carriera poiché hanno osato criticare il governo sionista e le mosse belliche di Israele o anche solo hanno osato difendere i bambini a Gaza. E questo, provate a vedere da quante serie tv, da quanti film, da quanti sequel, sono state cancellate le parti degli attori che hanno osato parlare anche solo con un post sui social di questa cosa qua. E questo fa capire la non libertà, la non democrazia e quanto sia ridicolo questo momento storico e mi auguro che si possa voltare pagina e che sia solo un triste ricordo, magari raccontando di come è stato poi bello trionfare e battere queste merde che stanno in qualche modo pensando e progettando tutto ciò da millenni. Grazie di cuore Davide Ramuno. Hai la copertina o il libro o qualcosa da dici quando esce? Allora, il libro, guarda, faccio vedere la copertina, dovrei avercela, dai. Non so se riuscite a vederla. Sì, la stiamo vedendo. Allora, tra l'altro l'ho disegnata io, anche perché non sempre posso giocarmi il bonus di Gianluca Capaldo, il grande maestro che ringrazio per sempre, ringrazio sempre. E niente, questo è il libro e per chi, ripeto, volesse specialmente anche chi non ha visto i film ma conosce ragazzi, figli, amici, no? Fatelo leggere perché appunto magari voi non li conoscete, voi pensate che vi siano estrani, in realtà attraverso questi film sono stati introiettati, insieme, avvelenati proprio le menti dei ragazzi e insomma dietro il marketing fantastico, no? Di attori incredibili che sono stati anche loro utilizzati a loro insaputa come come influencer del male, no? Come influencer del male. Questo è. Vi ringrazio. Grazie Davide. Se avete voglia di attualità, io poche ore fa sul canale Gianluca Lamberti ho fatto un editoriale dal titolo Il mondo si sta svegliando, il mondo sta capendo un po' di cose e ho parlato anche della situazione italiana, della brutta figura con Expo 2030 e di tanti collegamenti che possono lasciare ben sperare o meno a seconda di come li vogliate in qualche modo analizzare. Vi invito anche alla visione domani, base terra con De Curtis, con Nicola Bizzi, con De Graia e con Tom Bosco, con la DeLorean, venerdì tornerà Tea Crudi e sabato saremo dal vivo a Verona. Per questa mega conferenza vi invito a prenotare con il numero per gli ultimi poco meno di dieci posti per un sold out che veramente mi rempe d'orgoglio e non vedo l'ora di abbracciarvi tutti. Tra questi posti spero che qualcuno possa cogliere questi ultimi giorni per decidere di venirci a trovare e ad abbracciare dal vivo. L'appuntamento anche per il blog facciamafintachè.com, seguitemi su tutti i social come Gianluca Lamberti TV, su Instagram, Gianluca Lamberti su Telegram ma anche facciamafintachè, su Twitter mi chiamo Gianlu Lamberti, insomma più o meno è quello. Su Facebook sono così ovunque cercherò di essere ancora più presente e per ripagare anche l'entusiasmo e chiunque potrà aiutarci con l'iscrizione al canale o facendo iscrivere gli amici che sa essere interessati a queste tematiche per arrivare a centomila iscritti. Voglio ringraziare chi condivide le nostre puntate su sui propri social. Ogni social è buono per per condividere i nostri contenuti, a chi clippa anche parti di quello che noi raccontiamo mi fa piacere poi andare anche su Facebook, su Instagram, su Telegram e incontrare dei pezzi di nostre trasmissioni. Grazie di cuore anche perché ultimamente, anzi finalmente vedo molti canali corretti che crescono, hanno molti follower e sono veramente precisi nell'indicare il nome del relatore, il canale, la puntata, quindi grazie di cuore anche per tutta questa correttezza che non la do mai per scontata. Grazie di cuore a voi che ci scegliete ogni sera, ormai siamo a dieci contenuti la settimana, quindi uno al giorno tutte le sere e tre pomeridiani alle diciotto sul canale Gianluca Lamberti, lunedì, mercoledì e venerdì. Grazie di cuore a tutti, ci vediamo domani, io direi che possiamo andare anche in siga. Vuoi fare un saluto, ti lascio Davide, la conclusione? No, beh, saluto innanzitutto Victor, che adesso ho letto tra i commenti del grande Victor e vabbè, poi dopo anche Riccardo Pizzini, piuttosto che Nunzia che mi sta seguendo da Roma e qui mando un abbraccio, al buon Marco, Tudini sempre, fratello, amico. Grazie insomma a tutte le persone che mi seguono, che ci seguono, cerco sempre di non mettere l'ego insomma davanti a me. Anche nei miei libri cito anche le ricerche di altri relatori quando le considero importanti, non voglio mai entrare in guerre patetiche, no? E anche perché appunto dall'altra parte sono sempre molto ben organizzati proprio per metterlo in quel posto a tutti e quindi noi non possiamo permetterci il lusso di dividerci. E quindi grazie ancora per l'attenzione e insomma state sul pezzo ecco, buonanotte. Grazie Davide, sigla. Grazie a tutti. Grazie a tutti.